Ben trovati nel mio orto, oggi giornata di grandi trapianti quindi andremo a posizionare le zucchine in questa striscia di orto che ho già predisposto in precedenza con dei cauli, delle cipolle e altre cosine carine tutto paciamata, striscia assolutamente pronta per il trapianto senza nessun tipo di lavorazione vado a prendere le piante delle zucchine e andiamo a posizionarle allora le zucchine sono pronte nelle loro vaschettine questo terreno è stato tutto ricoperto da un fortissimo strato, un bello strato di paciamatura ho già inserito un mesetto fa o più di o giù di lì delle cipolle e dei cavoli che stanno tentando di crescere visto le temperature piuttosto bassine in questo periodo hanno fatto un po' fatica questo terreno come dicevo è tutto ricoperto da paciamatura per cui l'idea è che non richieda nessun tipo di lavorazione particolare allora essenzialmente questo terreno non ha bisogno di grandi lavorazioni perché è scritto molto concimato e paciamato da diverso tempo quindi basta semplicemente arrivare poi in fondo dove c'è il terreno spostando la paciamatura poi prenderò una bella zucchine la scelta e la metto nel terreno lasciando fuori ovviamente la parte sopra e poi mettendogli ancora intorno la paciamatura in giro di qualche giorno bagnandola un pochettino per tenerla bella al fresco visto il trapianto si sistema nel terreno e dovrebbe iniziare a diffondersi e ingrandirsi e questo è il progetto base di questo orto senza lavorazione tutto bello paciamato e come potete vedere l'altra cosa bellissima di questa lavorazione quindi tutto il terreno gestito con la paciamatura è che non c'è neanche un'erbaccia e se per disgrazia un'erbaccia riesce ad attecchire si riesce ad estrarre facilissimamente perché le radici sono poco ancorate al terreno per cui le lavorazioni sono molto minime adesso andiamo a sistemare tutte le altre zucchine allora le prime zucchine sono state posizionate ho messo giù solo 8 zucchine per il momento poi aggiungerò delle altre più avanti anche per avere una produzione un po' scalare durante la stagione da questa parte come vedete ci sono delle piante da frutto che faranno un pochettino di ombreggiamento sempre importantissimo considerare che le nostre piante anche se amano il sole come le zucchine non devono per forza andare arrosto per cui da questa parte ci sono delle piante da frutto che faranno leggermente schermatura solare per la stagione estiva quando sarà molto caldo e sarà molto intenso il calore che riceveranno le nostre piante anche se ricevono 6-8 ore di sole diretto e il resto è filtrato da un po' di ombreggiamento non c'è nessun problema matureranno tranquillamente questo comporterà che avranno meno esigenze idriche e staranno più in salute da questa parte dove per esempio questa pianta di mela non è ancora ben sviluppata e non farà l'ombra che desidero che abbiano le mie zucchine andrò a inserire delle piante di copertura e anche un po' se volete coreografiche ma bellissime come il girasole le pianterò questa parte qua vedete il terreno è terrazzato quindi questa è una linea nord-sud diciamo la parte più a sud viene un po' schermata con questi girasoli e queste piante e quindi andrò a garantire un po' di benessere ulteriore alle piante di zucchine soprattutto appunto nei periodi più caldi dell'anno dopo il troppianto fate una bella bagnatura per bagnare sia la pianta sia il terreno intorno in modo che non abbia problemi ad attecchire tenetele controllate per i primi giorni soprattutto da attacchi di lumache o altri insetti o comunque animali che possono mangiarcele per cui diamogli un occhio il terreno è già abbastanza concimato perché è stato completamente ricoperto da compost in quantità decisamente importante ma se pensate che il terreno abbia bisogno ancora un po' di nutrimento per garantire tutti gli elementi alle nostre piante potete aggiungere una manciatina di pellettato giusto intorno alla pianta per dargli un pochettino di spinta iniziale eccoci qua è passato qualche giorno da quando ho piantato le zucchine come potete vedere quello che prevedevo era un intervento massiccio delle lumache infatti guardate qua sono tutte state mangiucchiate guardate che danno quindi oltre a farci attenzione che però porta poco lontano ho un bel programmino per le lumache aggiungerò un po' di pellettato che è ossido di ferro che è comunque una sostanza naturale e senza tossicità alcuna che però scoraggia le lumache quindi adesso andrò a buttare un pochettino di solfato di ferro su queste zucchine per cercare di salvarle bene lavoro terminato fate un bel mi piace iscrivetevi al canale commentate chiedete se avete bisogno di qualche informazione al prossimo video ciao